Ciao a tutti, mi chiamo Alessandra Imperato, 53 anni, vengo da Genova, faccio la casalinga, sono mamma di tre figli e a dicembre divento nonna. Per me questa è stata una bellissima esperienza tramite amiche, ringrazio il Gorlero Monica e Attilio Mazziolli per questa bella esperienza e spero che vinca la migliore. Un bacio! Ciao, mi chiamo Mattia, ho 12 anni compiuti oggi, gioco a calcio e da grande vorrei fare il calciatore. Ciao a tutti, sono Martina Sposaro, ho 19 anni e sono una studentessa universitaria. Ho deciso di partecipare al talent di Miss e Mister Europa perché è un talent differente rispetto agli altri concorsi di bellezza, non esalta soltanto la bellezza esteriore, bensì la cultura, e la sensibilità dei ragazzi. È importante essere coscienti del mondo in cui viviamo e quindi anche per le nuove generazioni essere più sensibili verso dei più importanti, quale appunto la violenza sulle donne, l'abbandono di animali e disabilità. Le mie ispirazioni future? Essere una fotomodella, specialmente per quanto riguarda brand di make-up e gioielli e un'attrice. Grazie a tutti. Ciao a tutti, sono Giorgia Tarabotto, ho 17 anni e vengo da Genova. Frequento l'Istituto Tecnico Nautico e le mie ambizioni dopo questo concorso sono, se riesco, a diventare fotomodella e basta. Buonasera, mi chiamo Isa Stortini, ho 12 anni e vivo a Perugia. Sono campionessa nazionale di nuoto sincronizzato e faccio anche equitazione. Scorso anno sono stata qua, è stata una bella esperienza, ho vinto il primo posto e spero di vincerlo anche quest'anno. Mi chiamo Giulia, vengo da Genova e sono venuta per fare la sfilata e per vincere. Ho 9 anni e vado in quarta elementare. Da grande vorrei fare la veterinaria. Ciao, sono Silvana Mersini, ho 34 anni, sono una mamma di due bambini di cui una di 11 anni e l'altro del maschietto di 9 anni. Nella vita, oltre a fare la mamma e la modella, faccio anche altro come tatuaggi, microblading e gestisco un mio locale. Oltretutto, grazie ad Antonio Fioretti, l'agente della Regione Lazio, mi ha aiutata comunque a gareggiare nei vari concorsi di bellezza, vincendo comunque dei titoli sulle over. Sono qui con la speranza comunque anche di vincere, perché si fa per vincere, insomma, e che questo concorso mi possa portare comunque ad aprire delle porte nel campo della moda e dello spettacolo. Buongiorno a tutti, io sono Michela Turetta, vengo da Padova, ho 56 anni, sono qui perché ho intenzione di divertirmi, sono qui per sbaglio, quindi ho proprio voglia di divertirmi. Quello divertirmi e poi presentarli. Ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe proprio, quindi boh, va bene, aspettiamo e vediamo e ci divertiamo. Ciao a tutti, mi chiamo Michela Parolin, ho 32 anni, vengo da Cittadella, in provincia di Padova, rappresento il Veneto. Sono qui perché credo fortemente in questo concorso e il mio sogno nella vita è fare tutto ciò che mi fa star bene e che sia costruttivo nella mia vita. Ciao, mi chiamo Dalila, vivo a Milano, sono qua per una sfilata. Da grande mi piacerebbe fare la scienziata della veterinaria acquatica. Ho sei anni, faccio windsurf, danza. A presto. A presto. A presto. . . . . . . Grazie a tutti.